Come nasce questa nuova iniziativa di Chebanca? Nasce dalla volontà di sottolineare che Chebanca sta crescendo, dopo il conto deposito, i conti correnti e i mutui abbiamo sviluppato una piattaforma innovativa di risparmio gestito, Yellow Advice, e volevamo gratificare tutti i nostri clienti che già erano entrati in questa nuova piattaforma per poter far toccare con mano anche dei loro amici e dei nostri potenziali clienti cosa vuol dire la Yellow Experience. E quindi l'idea di un roadshow, trovare una via innovativa per far capire che anche la relazione in banca può essere gestita in maniera moderna, fresca e divertente. Questo roadshow toccherà più città italiane, quanti utenti pensate di andare a colpire? Sì, toccherà cinque città, le maggiori Torino, Milano, Bologna, Napoli e Roma saranno coinvolte fra le 8 e le 10.000 persone. Chi ha realizzato, ha curato questa iniziativa? La società di eventi che ha vinto la gara è i100 che poi in collaborazione con RIDENS ha sviluppato tutta l'idea di questa pista teatrale dedicata al mondo bancario. Poi guarda caso a teatro si parla anche di giallo e quindi che giallo è diventato abbastanza naturale come declinazione fisiologica. Per quanto riguarda invece le altre attività di comunicazione che quali sono i progetti in cantiere? Siamo attualmente in onda con una campagna radio che spinge sulla promozione del contodeposito al 2%, partirà a breve il Salone del Risparmio che ci vedrà protagonisti con anche una campagna stampa e digital dedicata e da metà aprile per tutto il mese di maggio anche una nuova campagna tv che andrà a sottolineare la modernità, l'innovazione del nostro progetto Yellow Advice che sarà sottolineato anche da questo spettacolo teatrale. Qual è lo stato di salute di che banca? Fantastica, siamo in piena salute, gli indicatori della marca segnalano una marca sempre in crescita, molto apprezzata, molto riconosciuta nonostante la giovane età. Noi a maggio compiamo i nostri primi otto anni di vita ma siamo riconosciuti come quelli che hanno cercato, che stanno continuando nuove modalità per far percepire la relazione bancaria in chiave moderna. Il mondo sta cambiando, stiamo vivendo una rivoluzione darwiniana e anche il modo di relazionarsi con la propria banca deve poter cavalcare questa nuova onda. Per quanto riguarda il budget che avrete a disposizione nella comunicazione avete già qualche idea? Sarà fase di discussione nei prossimi mesi, credo che sarà confermato quello del 2015. Che era di? 25 milioni di euro. Grazie a tutti.